Però Renzo Arbore una TV se la sta regalando via internet, tra l'altro nel 2007 la prima diretta streaming, adesso vanno così di moda anche in politica, Renzo Arbore l'ha fatta tantissimi. Si chiama Denis Gianni Berti, siamo andati in diretta streaming mondiale nel 2007 e poi dall'auditorium di Roma con Borgna. In tempi non sospetti quando non era ancora più di moda. Sto cercando di mettere delle cose di TV preziosa, insomma io dico che la TV non è che la settima musa, l'ottava musa come il cinema, come la cosa, però sarà la quindicesima musa, dove la mettiamo come musa? Perché c'è una televisione d'arte che non è solo quella, diciamo rigorosamente artistica o di Filippo Daverio, oppure di Rapport che pure è lì, perché se fai una buona informazione, tocchi delle persone. Tra l'altro stiamo vedendo dei contributi che arrivano proprio da Renzo Arbore Channel. Però c'è una televisione diciamo d'autore, infatti l'altra viene chiamata la televisione d'autore di Renzo Arbore.